Pronto? 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 Oh! Alleluia Corinne! Dove diavolo è finita cara? Sì, vabbè, vabbè, basta chiacchiere a giorni a me. Sì? D'accordo, alle 16 in sala conferenze. Corinne, ci saranno tutti, vero? Ho detto che voglio tutti. No, non mi importa di quegli idioti di giornalisti contrari alla pena di morte. Svegliati tesoro! Deve essere l'esecuzione più vista e cliccata nel mondo. Deve passare alla storia. Una morte mediatica, intesi? Coperture globale, tv social, satelliti, astronavi, tutto quello che puoi. Chi è l'addetto stampa del carcere? Eh, vabbè, convocali tutti. Ecco! Brava! Devo licenziarla. Elena, tra poco sarai una donna finalmente libera. Prigione, caffè, cellulare. La giustizia prionva, amore mio. La giustizia prionva, amore mio. Deve essere l'amore. La giustizia prionva, amore mio. Canto ogni giornata di dolore. E' un'unica che sta forte bene e spettino trovo E' un'unica che fa un successo in vita E' una grande carriera politica E' un'unica che sta forte bene e spettino trovo Il momento è arrivato e tutto mio Sta crescendo questa forza dentro me La vendetta può tornare a farmi vivere Sono libera perché adesso so E' un'unica che sta forte bene e spettino trovo E' un'unica che sta forte bene e spettino trovo E' un'unica che sta forte bene e spettino trovo Il mio sogno diventerà realtà E mia vita una smotta renderà La festa è pronta e quindi io celeberò La mia nuova libera Finalmente libera Finalmente libera Finalmente libera Finalmente libera Taxi!